Dalle cronache di questi giorni emerge in maniera abbastanza netta il problema dell'affermazione dei diritti all'interno dello stabilimento SATA di Melfi. Le inchieste giornalistiche riportano forme di mobbing ritorsioni comprovate anche dalle registrazioni che collocherebbero l'atteggiamento di alcuni referenti aziendali più ad un ottocentesco padrone delle feriere che ad un moderno sistema di gestione aziendale, modi autoritari e minacce non tolerabili nel terzo millennio. L'affermazione è contenuta in una nota congiunta dei consiglieri regionali Santo Chirico del PD, Romaniello di Sel, Vita del PSI, Mazzeo Cicchetti di DV e Navazio di IAL, chiesto al governo regionale di compiere un passo formale nei confronti dell'impresa per il ripristino di corrette relazioni. I consiglieri ritengono inoltre utile il coinvolgimento della quarta commissione consigliare lavoro e salute anche per avere un quadro chiaro sulla consistenza dei fenomeni denunciati riguardo malattie, infortuni ed invalidità attraverso l'audizione dei responsabili di tutti gli enti preposti a partire dall'INAIL e dalle aziende sanitarie di potenza in Matera.